Grazie mille per essere venuti ad ascoltare questa che dovrebbe essere una lezione sull'Ucraina e che per me è un momento importante anche proprio per le difficoltà che l'Ucraina sta vivendo in questo momento. E cosa dirvi in esordio? Sappiamo tutti che l'Ucraina è al centro di una situazione bellica senza precedenti che vede coinvolte la Russia, l'Unione Europea e la Nato e quindi inevitabilmente anche gli Stati Uniti. Ed è dal 24 febbraio che resiste, che chiede aiuto, armamenti, intelligence e che gioca tutte le sue carte a livello di comunicazione per fare capire al mondo che è in gioco la sua sopravvivenza e che questa è importante per gli equilibri europei e mondiali sconvolti da quella che è una brutale mossa russa. Non possiamo nasconderci che dopo un generoso momento di solidarietà le preoccupazioni per l'impatto che questa guerra potrebbe avere e lo sappiamo sulla nostra economia, sul nostro benessere, sulla nostra sicurezza per le continue minacce da parte russa, inducono molti in Italia e anche altrove ad invocare la pace, a recriminare perché non si avviano trattative, perché si continua a sostenere lo sforzo bellico ucraina, perché in definitiva non si accontenti la Russia. decidendo con lei che cosa vorrebbe di questo territorio per riportare la situazione allo stato di prima. Il punto è che non ci sarà più lo stato di prima, perché è proprio quello che la Russia ha voluto infrangere. L'Ucraina era un pacifico paese alla frontiera dell'Unione Europea, pacifico, intenzionato però a farne parte, questo è il punto, intenzionato a farne parte, disposto a lavorare per ottenere, per raggiungere gli standard che venivano richiesti per una possibile adesione. Era un paese allora moderatamente filoamericano, perché dagli Stati Uniti non aveva niente da temere, ma seriamente preoccupato di dover difendere la propria sovranità dalle mire russe, soprattutto dopo la conquista e l'annessione della Crimea e la destabilizzazione avviata in Donbass, dal potente vicino. Ma come si è giunti a questo conflitto? Che cosa si conosce dell'Ucraina? Perché vi è quasi il dubbio che la sua sovranità avvalga quella di un altro Stato del nostro continente? Perché si fa ecco alla propaganda russa anti-Ucraina anche solo per mancanza di conoscenza? L'Ucraina è il secondo paese più grande d'Europa ed è il paese che è alle frontiere nostre attuali. Quindi che sia o che fosse rimasto un paese tranquillo avviato ad uno sviluppo democratico che in prospettiva guardava l'Unione Europea, ma non necessariamente ancora la Nato. E noi sappiamo che l'Unione Europea e la Nato di posto per l'Ucraina non ne avevano, per cui la posizione dell'Ucraina era di un assoluto stand-by in cui si diceva rafforzati, ottieni degli standard democratici, rinsalda la tua sovranità e poi si vedrà. E allora io mi sono detta, indipendentemente da questa situazione di cui noi vediamo le evoluzioni ogni giorno e non sta a me anche raccontarvi le ultime novità perché le vedete, basta aprire qualsiasi telefonino e vengono queste notizie anche allarmanti, ma in questo contesto mi sono chiesta cosa posso fare dopo trent'anni che mi occupo di storia russa, di storia polacca, di storia ucraina, che cosa posso fare? E ho avuto l'occasione per Della Porta di poter fare questo libro che è l'Ucraina in 100 date, dove io voglio semplicemente mostrare un percorso che ha seguito l'Ucraina attraverso 100 date che sono importanti per la sua storia, per la nostra storia, per la storia dell'area. Alla fine della lettura di questo escursus ognuno potrà trarre le proprie conseguenze e potrà decidere se questo paese è un paese fasullo, se è un paese finto, se è un paese creato da Lenin e da Stalin, arricchito dal regalo, fra virgolette, di Khrushchev e quindi fondamentalmente un paese che non ha diritto a una sua piena sovranità. E questo è un altro discorso rispetto all'Unione Europea e alla NATO. Quindi un'idea di questo paese e della sua storia. Come è noto l'Ucraina è diventata indipendente per la prima volta in senso pieno nel 1991. Se trascuriamo un breve ma significativo periodo che è avvenuto all'epoca della guerra e della rivoluzione russa che spezzando quelli che erano gli equilibri tradizionali hanno permesso all'Ucraina di tentare un breve esperimento statuale. Parlando più concretamente nel 1991 si può dire che l'Ucraina ha avuto un suo ruolo distinto da quello della Russia o delle altre repubbliche ex-sovietiche. E parlando di repubbliche ex-sovietiche non dobbiamo dimenticare, anche se oggi pare lontano nel tempo, che nel 1991 avvenne il crollo dell'URSS e la fine del sistema sovietico che raccoglieva intorno a Mosca una vasta area centro-europea, però crollò proprio anche per motivi intrinseci a quella che era la crisi che quell'insieme stava vivendo. Il processo fu tumultuoso però in fondo se ci pensate incruento con l'apparire sulla scena dei nuovi soggetti storici, le repubbliche per la prima volta indipendenti, alla ricerca ognuna a suo modo di una identità post-sovietica. Su questo sfondo quindi dobbiamo collocare anche l'Ucraina. Il destino odierno dell'Ucraina come paese frontiera, come viene sempre definito, affonda le sue radici in un passato tormentato, cioè non tutti i paesi sono come la Francia, non tutti i paesi hanno una statualità sicura di cui puoi ritracciare le tracce in un percorso ininterrotto che pur attraverso diversi monarchi, diversi presidenti della Repubblica, tutto sommato resta ad identificarti uno stato certo. L'Ucraina non ha avuto la fortuna come l'Italia, se vogliamo dire, di essere una penisola circondata dal mare, un paese fondamentalmente monoetnico e monoreligioso, per cui nel momento in cui l'Italia ha deciso la sua unificazione sotto l'egida del Piemonte, ha potuto farlo con relativa tranquillità. L'Ucraina, come tutte altre realtà dell'Est, era un insieme di terre che la storia aveva diviso in diversi insiemi statuali e questo ha determinato che il destino dell'Ucraina occidentale, centrale dell'Ucraina orientale, si siano diversificato anche per molti secoli, senza tuttavia che coloro che abitavano queste terre, fra virgolette, ucraine, non sapessero di essere diversi per lingua, costumi, tradizioni e sentimenti molto spesso dai loro dominatori. Il grande problema, vorrei dirvelo subito, è che l'Ucraina veniva definita nell'Ottocento una nazione non storica, cioè vi erano delle nazioni storiche come la Polonia che era stata smembrata, però era stata un grande stato. L'Ucraina era composta da terre prevalentemente e maggioritariamente abitate da contadini con una difficoltà ad esprimere una sua classe dirigente per cui non vi era posto e quindi anche per affermare il fatto di avere una lingua standardizzata e quindi anche una elite che potesse mandare per il mondo una immagine precisa. Purtroppo questo destino si è protratto molto a lungo. Queste terre, precisamente, non ho le cartine però vi dico dobbiamo fare lo sforzo di passare da un'Europa come la vediamo oggi a come poteva essere prima dell'esistenza degli stati nazionali, quindi prima della fine della prima guerra mondiale se vogliamo e anche oltre. E quindi le terre che compongono oggi l'Ucraina sono state nei secoli divise fra potenti stati e principalmente nell'età moderna la confederazione polacco-lituana, la Polonia per intenderci, che però andava dal Baltico al Mar Nero, la Russia zarista, l'impero asburgico e i loro stati successori, cioè gli stati che sono nati dalla loro dissoluzione e quindi la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia post bellica, la Russia sovietica, quindi questo destino di divisione di ucraini abitanti in diversi paesi, l'Ucraina odierna l'ha portato avanti molto a lungo, il che vuol dire che è anche un paese molto ricco, molto ricco perché ha un sostratto che si richiama a diverse tradizioni anche storiche, politiche e questo tentativo degli ultimi 30 anni di riportare ad unità una idea ucraina e quindi di affermare la sovranità anche mettendo dei punti fermi in questa storia che non è nazionale così come noi la intendiamo è avvenuto e quindi la cosa paradossale è che chi non ha capito o non ha voluto capire o non ha accettato che questo fosse avvenuto è proprio il suo vicino che ha pensato con un'operazione speciale di poter arrivare nello stato libero di Bananas oppure nello stato oppresso di Bananas, arrivare, favorire un golpe, trovare un presidente farloco che scappava, trovare un esercito consenziente e fare dell'Ucraina un proprio cliente nel vero senso della parola, con un livello di sottomissione o di controllo delle terre ucraine che sarebbe rimasto da definire ma ci sarebbe stato. Se l'operazione fosse riuscita il nostro nuovo vicino alla frontiera dell'Europa sarebbe la Russia di Putin che è poi la Russia di Putin. Non è precisamente la Russia e non è tutto quello che noi mettiamo nella parola Russia non essendo, almeno io personalmente, penso anche molti di voi, russofobi perché noi sappiamo che la grande cultura russa ha tanti aspetti in cui ci possono anche essere gli anticorpi nei confronti di vecchi e nuovi autoritarismi. E quindi come funziona un libro che viene fatto per cento date, uno potrebbe anche dire che la scelta è arbitraria ed è vero in un certo senso perché tu devi decidere qual è il termine da cui parti e qual è il termine dove giungi. E io mi sono voluta lanciare con l'immagine della steppa, è l'immagine di un kurgan, quel tumulo che nasconde le tombe dei guerrieri e chi erano fondamentalmente la steppa abitata da popoli che sappiamo di origine indo-europea o comunque di lingua indo-europea come ci hanno insegnato la Gimbutas ed altri che avevano proprio quel tipo di tumulazione in cui facciamo rientrare quei mitici cimeri, sarmati, sciti e che hanno anche influito nell'immaginario perché tutti vorrebbero identificarsi con l'immagine del guerriero sarmata. Però a un certo punto proprio in questa zona dove erano questi popoli indo-europei, i popoli dei kurgan, i popoli della steppa, abbiamo avuto un mar nero che è stato colonizzato, colonizzato nel senso dai greci che vi hanno fondato delle colonie e quindi era proprio quella cerniera fra il mondo greco e il resto dell'Eurasia che è molto carico di fascino per tutti. In questa area a un certo punto si affermano gli slavi, gli slavi che hanno probabilmente nell'immagine non assomigliano al guerriero sarmata però avevano anche loro delle capacità a guerriere ma soprattutto un popolo essenzialmente agricolo con una grande vitalità che si è espanso in una vastissima area che va proprio dalle pianure che ci interessano, dai boschi dell'Ucraina potremmo dire e della Polonia fino ai Balcani. Per quello che riguarda l'Ucraina noi parliamo sempre di slavi orientali gli slavi orientali identificati così anche per la lingua noi facciamo rientrare i russi, gli ucraini e i bielorussi e anche facile dire sono un popolo unico ma non è così, non è così come l'italiano non è occitano, come l'italiano non è catalano anche se ci sono molte analogie fra queste lingue e forse anche fra certe tradizioni. e quindi andando a vedere dopo l'antichità la prima vera interessante, notevole, eccezionale se volete formazione statale che noi incontriamo e che è largamente frutto degli sforzi degli slavi è la russa di Kiev. Io ho privilegiato nel corso di tutto il libro l'uso dei toponimi ucraini, Kiev non Kiev perché? Perché tutto sommato avendo l'Ucraina subito per molti molti secoli un ban si direbbe sulla propria lingua è chiaro che ha sempre visto le sue città denominate alla polacca, denominate alla tedesca, denominate alla russa allora torniamo a denominare le città all'Ucraina, giusto perché entrino anche nel nostro parlare, nel nostro sapere. che cos'era Kiev? Era una importantissima postazione che si trovava in una via essenziale perché era praticamente il raccordo fra il Mar Baltico e il Mar Nero da cui passava tutto quello che poteva essere prodotto in quella zona a livello di merci ma poi anche e soprattutto di contatti fra un mondo nordico, potremmo dire scandinavo e un mondo mediterraneo orientale, quale era quello dell'impero greco bizantino e a seguire. Quindi una via molto importante che non poteva non attirare l'attenzione di soggetti esterni a quell'area per la ricchezza che aveva potenziale per esigere tributi, per controllare questi traffici e anche per, virgolette, proteggerli. E quindi noi vediamo subito una inserzione nella Russia russa di Kiev o di Kiev degli scandinavi, nella fattispecie dei vichinghi, quelli che noi chiamiamo normanni. Pensate, il tipo di espansione normanna è uguale dappertutto, loro vengono, sono delle elite guerriere, in genere riescono a fondare delle postazioni vincenti e a mettere in piedi, se volete, delle dinastie. Quindi la dinastia della Russia era una dinastia di origine scandinava che però molto presto si è slavizzata e lo si vede anche nel cambio del nome. Rurik diventa Ryurik e Ryurik diventa il capostipite della dinastia della Russia cosiddetta di Kiev che sopravvive, vive splendidamente, riccamente a tutti i livelli anche diplomatici. Basti pensare che Anna di Kiev andò in sposa al re di Francia, per fare un esempio, lei sapeva scrivere, il marito no, lei firmava con il suo nome e il marito con una croce. Quindi viene detta Anna la letterata, però è una cosa molto interessante, dato che questo avveniva proprio nei primi secoli dopo l'anno 1000. e quindi questa Russia conosce la catastrofe, potremmo dirlo, quella che ha vissuto come catastrofe dell'invasione mongola. Questa volta dalle steppe, dalle steppe dei Kurgan, dalle steppe dei Cimeri, Sarvati e Ischiti compare questa potenza, quella che noi vediamo sempre riassunta sotto il nome di Gengis Khan, ma anche attraverso i suoi discendenti, che si impadroniscono delle terre della Russia. con una differenza. In questo mondo della Russia di Kiev, con vari principati, sempre derivanti dalla dinastia madre, noi troviamo un cambiamento di gerarchia di questi principati, logicamente uno spostamento di popolazioni, un crearsi di un centro-est e di un ovest, i cui destini storici si differenzieranno. Chi resta più a lungo sotto la diretta influenza mongola è la Russia di Vladimir Suzdal, da cui nasce Mosca come fondazione all'inizio, come tante altre, poi in seguito destinata a rafforzarsi, a dare origine al Gran Ducato di Moscovia e a diventare il primo Stato, se vogliamo, sovrano, indipendente, dotato di una sua dinastia, di una precisa fisionomia religiosa e di una precisa ideologia statuale di origine bizantina con forti influenze tataro-mongole, che logicamente compete perché fin dall'inizio ha l'idea che dovrebbe riscattare, riunificare, mettere sotto il suo controllo quelle che sono le terre della Russia. Ma le altre terre della Russia, uno dice, che fine hanno fatto? Alcuni principati hanno vissuto all'ombra di Mosca e della sua crescente potenza, altri hanno seguito, soprattutto a Ovest, un'altra traiettoria, per cui abbiamo, per esempio, la Galizia-Volinia, che praticamente è la regione con capitale Leopoli, che diventa proprio un regno di Galizia-Volinia, riconosciuto anche da Papa Innocenzo IV, che paga, logicamente, non proprio il tributo, ma un'attenzione ai mongoli, che comunque sono i signori dell'area, però riesce a sviluppare una propria tradizione statale. Ora, questa Galizia-Volinia viene vista come l'embrione dell'Ucraina attuale, mentre invece dall'altra parte è Mosca, che è l'embrione della Russia-Unione Sovietica e post-Unione Sovietica. Due mondi diversi, perché che cosa succede in Galizia-Volinia? Per l'estinzione proprio naturale della sua casa regnante, che peraltro era comunque riurichide, alla pari quindi di quella Moscovita, e quindi dobbiamo anche tenere presente che molte volte le rivendicazioni nazionali hanno una base di rivendicazione dinastica che risale al XII, XIII, XIV secolo e che forse la storia ha provveduto, se vogliamo, ad emendare. Cosa succede a questa Galizia-Volinia? Incontra subito due potenze che sono interessatissime a subentrare in quell'area. Una è la Lituania. La Lituania era uno stato pagano. Erano i signori della guerra in quella parte d'Europa. Si cristianizzano, danno origine ad una loro dinastia che è quella dei Ghediminidi, incontrano il regno di Polonia che a sua volta vuole infiltrarsi in quella zona e con la solta classica politica matrimoniale che noi conosciamo da tutte le vicende della storia medievale e moderna, mettono insieme, attraverso un matrimonio, una unione che andrà perfezionandosi per cui l'unione fra il Grandocato di Lituania e il Regno di Polonia darà origine alla Confederazione Polacco-Lituana. A quel punto sono cattolici, a quel punto hanno come antagonisti sempre cavalieri tedeschi e hanno come antagonisti potenzialmente gli svedesi, hanno come antagonisti i russi, antagonisti collaboratori a seconda, a partner, a seconda della situazione. Però la Moscovia da una parte e la Confederazione Polacco-Lituana dall'altra hanno un forte peso, ma per quello che riguarda le terre che noi diciamo Bielorusse e Ucraine, queste restano nella Confederazione Polacco-Lituana. Sono però di lingua diversa da quella polacca, molto diversa, perché semmai più affine al russo e non perché è slavo orientale, quindi non slavo occidentale, e poi soprattutto sono di religione ortodossa. E quindi vorrebbero in un modo o nell'altro avere una rappresentatività maggiore all'interno della Confederazione Polacco-Lituana che invece guarda molto di più ad un mondo romano-germanico-cattolico. I contadini fanno sempre la vita dei contadini e di loro si preoccupa più o meno nessuno. Le città sono abbastanza prospere con la loro classe dei mercanti. Vi è poi una nobiltà polacco-lituana molto forte che tende anche a cooptare i residui della nobiltà dell'epoca della Russa di Kiev che seguono logicamente quello che si direbbe oggi il mainstream. Fino a un momento molto particolare che è importante anche per la storia di oggi e cioè nel 1648 un nobili uomo di origine aristocratica della Russa Bogdan Kmelnitsky ma di perfetta educazione polacca quindi non pensate al capo cosacco come lo potete vedere nei quadri con il codino, lo sguignazzo e tutto quell'assetto descritto nei certi quadri storici dell'Ottocento Bogdan Kmelnitsky riesce a farsi riconoscere a Tamano, cioè capo di un particolare segmento della società polacco-lituana e anche russa che sono i cosacchi i quali cosacchi stanno lungo le rive del fiume Dnipro e stanno lungo le rive del Don e fondamentalmente hanno delle proprie tradizioni guerriere e hanno un proprio senso di identità e sono però ortodossi di religione e in questi cosacchi che servivano all'uomo sia i re polacchi sia i sovrani russi nelle diverse componenti proprio per difendere i confini dello Stato dai possibili problemi che provenivano dalla steppa cosa succede? Che costoro si ribellano e diventa una grande ribellione guidata da Bogdan Kmelnitsky in cui i contadini danno manforte proprio perché vedono in questo anche una possibilità di riscatto sociale per cui possono essere date molte letture di questo moto del 1648 fatto sta che sotto questa forza militare ispirata e guidata dalla Kmelnitsky un grosso lotto di terre che potremmo dire ucraine fra virgolette che stavano dentro la confederazione polacco-lituana vanno a costituire un embrione statale che si chiama etmanato Bogdan Kmelnitsky vorrebbe che l'etmanato fosse riconosciuto dai polacchi come una realtà costitutiva della Polonia-Lituania ma loro non danno seguito a questa pretesa allora Bogdan Kmelnitsky ritiene che la Russia invece anche perché fondamentalmente l'etmanato è ortodosso e perché le differenze linguistiche non sono così accentuate e perché ci sono i cosacchi e da una parte e anche dall'altra ritiene di poter trovare nei granduchi principi di Mosca dei protettori questo avviene e fondamentalmente nel 1654 data molto importante a Periaslav viene firmato un trattato con cui queste terre dell'etmanato vengono portate sotto la custodia il protettorato russo i cosacchi ritengono che le loro libertà saranno preservate l'etmanato è convinto che potrà conservare una propria autonomia in politica interna e in politica estera e che continuerà a poter giocare come grazie anche alle sue forze armate come jolly in una situazione complicata dove è sempre russi polacchi potenzialmente svedesi gli va male non è esattamente così perché da parte russa quello che dovrebbe essere un protettorato diventa se vogliamo sistematicamente a seconda delle politiche centralistiche più accentuate o meno accentuate una volontà di controllo di questo territorio e poi in fondo di progressiva assimilazione le vicende del contrasto fra i russi e i polacchi fanno sì anche che nel 1686 si venga ad un'altra pace che viene definita perpetua poi di pace perpetua vediamo che non ne esistono mai per cui praticamente non solo quelle prime terre che sono andate a finire nel 1600 nell'orbita russa ma anche tutta la riva sinistra del Dnipro vanno sotto la sovranità potremmo dire di Mosca e poi di Pietroburgo e lì incominciano anche a venire fuori dei problemi perché i cosacchi si sentono sfruttati molto spesso nelle guerre che soprattutto Pietro il Grande conduce dove gli sembra di servire anche da carne da cannone e lì avviene la prima grande importante rivolta se vogliamo anti Moscovita anti Pietroburghese ormai dei cosacchi ucraini sotto la guida di Mazzeppa Mazzeppa forse lo conoscerete anche dal mito letterario di Lord Byron dalla musica che gli ha dedicato Liszt è questa figura che ha molto eccitato la fantasia romantica Mazzeppa era un amico di Pietro il Grande era un gentiluomo che aveva anche vissuto alla sua corte a un certo punto quando si mette in moto la situazione geopolitica ed entra la Svezia come quello che diremmo competitor Mazzeppa vede la possibilità di emancipare finalmente l'Etmanato e di riservargli un ruolo specifico e commette ora potremmo dire di allearsi con Carlo di Svizia che però viene sconfitto a Poltava nel 1709 da Pietro il Grande e la vendetta di Pietro il Grande è tremenda nel senso che fa organizza un raid in quello che è la capitale dei Cosacchi e la distrugge e da quel momento sistematicamente non si parlerà più di possibile autonomia o indipendenza dell'Etmanato questo mito come vi ho detto poi risorge in epoca romantica trova i suoi cantori e trova anche i suoi cantori in Ucraina che non è ancora Ucraina nel vero senso della parola nei versi del grande grandissimo poeta dell'Ucraina che è Taras Shevchenko e io nel libro attraverso queste date arrivo anche a scegliere simbolicamente una data che riguarda la produzione di Shevchenko il quale proprio fa un'ode che in fondo è una invettiva anche contro Pietro il Grande che cosa ha fatto ha usato le nobili ossa i nobili Cosacchi per costruire la sua Pietroburgo e quindi le ossa dei valorosi Cosacchi sono andati a finire nelle fondamenta della sua città e sono dei versi molto suggestivi io li ho voluti riportare poi chi volesse leggere Taras Shevchenko ha della buona letteratura e delle buone traduzioni anche in italiano e potrebbe capire meglio questo sentimento che è diverso da quello di Gogol col suo Taras Bulba perché Gogol fa parte di un'altra anima se vogliamo dell'Ucraina e cioè quella che invece in un modo o nell'altro dimentica quella che può essere la volontà indipendentistica dei Cosacchi e degli Ucraini e invece cerca una propria strada in armonia con quello che è il potere russo ora il problema del potere russo allora come oggi è fondamentalmente il fatto che l'autocrazia zarista per come è venuta rinsaldandosi attraverso da Pietro Il Grande a Nicola II che ha dovuto per la prima volta dopo la rivoluzione del 1905 concedere un Parlamento ha sempre avuto dei tratti molto centralistici autoritari e repressivi se volessimo ascoltare la voce di Mazzini con poca differenza rispetto agli altri assolutismi che c'erano in Europa ad ognuno il suo però vi dico la verità che andando a guardare in un'altra data importante che è il 1848 la cosiddetta primavera dei popoli io mi sono imbattuta in alcune frasi che sono state pronunciate al congresso slavo che si svolse a Praga dove tutti gli slavi con delle loro rappresentanze arrivarono per vedere che cosa si poteva fare per l'emancipazione linguistica identitaria e culturale degli slavi chi voleva trovarla all'interno dell'impero russo chi la voleva trovare all'interno dell'impero asburgico chi già pensava a delle soluzioni confederali federative o addirittura repubblicane di altro genere comunque una frase che mi ha molto colpito che spiega se volete le radici di quello che fra virgolette si può chiamare russofobia è che allora la russia portava anche avanti per zarista un'idea panslavista del tipo siamo i protettori degli slavi ortodossi ovunque si trovano e questo aveva una grande risonanza per quelli che erano gli slavi dei balcani sotto l'impero ottomano aveva una minore risonanza per quello che riguardava gli slavi che si trovavano a Praga o a Varsavia e quindi c'è la frase del tipo al panslavismo di Nicola I e dei suoi gendarmi io preferisco lo slavismo di Mazzini e quindi è anche questa idea veicolata dal modello italiano da Mazzini da Garibaldi che ha anche forte presa sull'immaginario sia polacco sia ucraino dell'epoca vi racconto una cosa molto strana che ha scoperto un mio collega ucraino Varvarsev e cioè che i contadini delle rive del Dniepr dicevano verrà Vidibailo a liberarci e uno dice chi è Vidibailo Garibaldi loro non sapevano chi fosse Garibaldi non sapevano come si pronunciasse il suo nome però l'eco che fosse successo qualcosa di molto importante in un paese disgraziato fra virgolette come il loro anche lui vittima di un impero anche lui vittima di una dominazione straniera che era riuscito a vincere a unificare un paese a ridargli una lingua un'identità nazionale e tramite l'immagine di Garibaldi eroi dei due mondi si supponeva anche un riscatto sociale potrà non esserci stato ma così veniva percepito faceva sì che il contadino sulle rive del Dniepr dicesse verrà Vidi Bailo a liberarci stranezze della storia Vidi Bailo non è andato a liberarli la storia è andata avanti io ho cercato ogni volta di vedere di alternare le date che riguardano quell'insieme di ucraini che si è trovato fin dal 600 per acquisizioni e rafforzamenti successivi nella zona russa e gli altri che si sono trovati in quella polacca perché che cosa è successo nel frattempo nel frattempo è successo che alla fine del 700 le tre potenze così odiate dal buon Mazzini l'Austria la Prussia e la Russia si sono unite per spartirsi la confederazione polacco-lituana per prendersi ognuna per conto proprio ma d'accordo una parte di quel grosso insieme che andava dal Baltico al Mar Nero allora tu hai una Polonia con terre ucraine e varie altre nella parte asburcica hai delle terre ucraine nella parte di Polonia che si prende la Russia che è fondamentalmente anche la riva destra del Dnipro quindi riva quindi riva sinistra e riva destra perché all'Austria fondamentalmente resta quella che noi oggi chiamiamo l'Ucraina occidentale soprattutto la regione importante della Galizia con capitale Leopoli cito solo questa perché è la più evidente che anche voi ormai avete imparato a individuare chi da una parte Leopoli dall'altra come fai quando ti trovi con questi grandi insiemi statali con un ulteriore problema per gli ucraini da una parte e dall'altra che la maggioranza la stramaggioranza se si può dire stramaggioranza stragrande maggioranza degli abitanti è contadina e contadini in questi imperi che sono anche socialmente strutturati per gerarchie non contano nulla hanno pochissima rappresentatività e rappresentanza ce l'hanno un po' nell'impero sburgico perché man mano che evolve in senso liberale darà la possibilità a qualche rappresentanza contadina all'interno dei suoi parlamenti locali però fondamentalmente gli ucraini si scontrano nella parte polacco asburgica con lo strapotere dei polacchi che restano comunque molto forti con una grande aristocrazia con i propri oggi diremmo di lati fundisti insomma con le sue grandi proprietà con una borghesia abbastanza abbastanza debole con un ceto urbano di ebrei di tedeschi di polacchi di italiani di greci e di armeni in cui onestamente il contadino ucraino non è contemplato in città quasi mai ci arriva dall'altra parte il contadino ucraino è come il contadino russo proprio alla base senza senza storia della piramide della piramide sociale che cosa fa l'impero zarista e questo è evidentissimo nei censimenti se noi andiamo a vedere il famoso censimento sia quello del 1800 ma ancora più completo quello del 1907 vediamo che alla voce russi dobbiamo scorporare i dati perché come russi venivano intesi i bielorussi e gli ucraini perché così le stime della popolazione russa all'interno di un impero multietnico che ormai arrivava all'isola alla Siberia estrema all'isola di Sakhalin la componente russa quindi europea bianca ed ortodossa dell'impero risultava ingrandita perfetto il problema è che a quel punto lì io devo dire che tu non hai una lingua tu non hai un'identità e tu non hai una cultura e quindi vediamo che proprio nell'800 che escono delle circolari delle direttive che impediscono l'uso pubblico della lingua ucraina che viene ritenuta una lingua domestica niente più che un dialetto perché tutta questa parte viene chiamata piccola Russia la bielorussia viene chiamata russa a bianca e poi c'è la grande Russia però dal momento del cessimento tutti costoro vengono definiti come russi quindi la lingua ucraina non esiste anche se ormai c'ha i suoi filologi i suoi cultori formatisi nelle università russe peraltro e la cosa più curiosa che cos'è che da un lato la lingua ucraina non esiste e allora però hai i divieti contro la lingua ucraina e allora mi è piaciuta molto la frase dello storico Toynbee il quale scrivendo di queste terre durante la prima guerra mondiale domandandosi ma come facciamo se questi imperi scompaiono a chi assegniamo Odessa a chi assegniamo Kiev cosa se ne farà di Leopoli giustamente diceva che se nella parte austriaca tutto sommato i diritti linguistici delle minoranze erano riconosciuti non altrettanto nella parte russa e allora diceva ma se la lingua ucraina non esiste come si spiegano questi editti si emettono forse degli editti contro delle allucinazioni e a me è piaciuto moltissimo si emettono degli editti against allucinations ma gli editti si moltiplicavano con il risultato che anche i grandi storici ucraini come Khrushchevsky o altri Dragomanov Tomarov avevano l'escamotage di pubblicare vuoi nella parte austriaca vuoi addirittura in Germania dopodiché il libro veniva tradotto in russo come letteratura straniera ma non poteva essere pubblicato direttamente in ucraino in quelle zone quindi una lunga storia di negazione di una sovranità e non siamo ancora arrivati a porre problema della sovranità e questo succede questo succede durante la rivoluzione e durante la prima guerra mondiale per un breve periodo sorgono due repubbliche una con le terre ex russe l'altra con le terre ex asburgiche che dichiarano e lo trovate nel giorno della repubblica ucraina la loro unità che però è un'unità che non si concretizza mai perché non riescono nemmeno a incontrarsi perché di mezzo c'è di tutto ci sono le truppe dai residui di truppe austriache tedesche i bianchi i rossi contadini ribelli e truppe dell'intesa per cui questi due parti non si incontrano mai però ormai l'Ucraina dice io ho una mia dignità congresso di pace viene riconosciuta la ricostituzione della Polonia nascono la Lituania la Lettonia l'Estonia e l'Ucraina ancora una volta resta dimenticata rimane dentro la Polonia per una grande parte perché i polacchi vincono sui bolcevichi nel 1920 quindi nel 1921 Leopoli è loro e questo viene consacrato dai trattati e dall'altra parte nasce un'Ucraina sovietica non per adesione di popolo per il semplice fatto che Kiev viene presa dalle truppe bolceviche e quello che è l'esperimento di questa Repubblica altrettanto socialista però diciamo nazionale viene abbandonato e abbiamo la storia dell'Ucraina sovietica la quale Ucraina sovietica viene ingrandita è verissimo perché l'epoca di Lenin le vengono dati dei territori dati vengono riconosciuti nel disegno delle repubbliche viene riconosciuto che l'Ucraina avrà lo sbocco al mare quindi quella che è quella regione che viene anche nominata da Putin la nuova la nuova Russia sarà parte russa ma anche parte Ucraina e poi viene il grande momento del patto tedesco sovietico Molotov-Ribbentrop con cui Stalin riesce fra il 39 e il 45 fra quello che acquisisce col patto Molotov-Ribbentrop e quello che acquisisce con i trattati dopo la seconda guerra mondiale a prendere tutta l'eredità asburgica quindi i patrioti ucraini dell'Ottocento se gli avessero fatto vedere la cartina e gli avessero detto guarda che ci sarà una grande repubblica ucraina che comprenderà tutti questi territori la vuoi il poveretto avrebbe detto sì e avrebbe detto sì con grande entusiasmo e poi gli avrebbero detto però vada pagherai questo prezzo questo prezzo questo prezzo questo prezzo lo vuoi e chi lo sa quale sarebbe stata la risposta perché l'Ucraina sovietica ha conosciuto tutte le traversie dell'Unione Sovietica la collettivizzazione la morte per fame dei contadini le grandi carestie che però nel suo caso sono state più spietate e hanno chiesto un attributo di morte molto molto più alto parliamo di più di 3 milioni e mezzo di contadini nel giro di due anni 1932 1933 morti per fame perché la stretta su questa terra è stata artificialmente intensificata perché l'Ucraina è la porta verso l'Europa perché l'Ucraina è confinante con la Polonia perché è in un'ottica paranoica di fortezza assediata che era propria di Stalin noi dobbiamo preservare il socialismo dai tentativi di questo uccidente di sopraffarci salvo mettersi d'accordo con Hitler quando gli ha fatto comodo facilitando anche le operazioni hitleriane nell'Europa occidentale ma questa idea della fortezza da preservare ha fatto sì che l'Ucraina sia sempre stata vista proprio anche per il suo passato di rivolte cosacche ed altro come una zona debole che poteva sfaldarsi che poteva levare alla Russia il suo accesso al Mar Nero o possesso di tutta la costa se vogliamo o gestione tramite l'Ucraina pienamente di questa costa e come porta sull'Europa difatti il libro adesso recentemente tradotto di Pluchy lo storico di Harvard ha il titolo proprio Ucraina le porte d'Europa e quindi tutto questo bene o male da qualche parte rimane rimane nella mente delle persone e vi faccio solo due esempi e poi concludo nelle cento date io ho scoperto che scrivendo un libro per date tu scopri trovi delle date che non avevi considerato perché le avevi sempre studiate all'interno di un contesto o all'interno dell'altro 1863 nasce quello che adesso è stato recuperato come lino dell'Ucraina la gloria dell'Ucraina non è ancora morta la gloria e la libertà dell'Ucraina non sono ancora morte 1863 composto da due sfortunati che poi logicamente sono finiti subito malissimo però l'hanno composta e poi è stata recuperata come ino ma il 1863 è anche l'anno dell'insurrezione polacca antirussa e quante insurrezioni i polacchi hanno portato avanti nel 30 nel 63 è vero che sono sempre stati i competitor degli ucraini in quella zona però il loro modello in fondo qualcosa ha detto ha detto che tu puoi tenere in piedi per 150 anni una questione nazionale anche se ogni rivolta anche se ogni insurrezione può essere inutile c'è anche l'eroismo dei perdenti di coloro che sanno che sono perdenti o che non hanno niente da perdere che nonostante tutto in determinate condizioni fanno sentire di esistere spedendo loro legioni polacche a sostegno del risorgimento italiano o spedendo i loro corpi armati a crepare a Monte Cassino per la liberazione dell'Italia per carità la Polonia ha avuto tutte le sue traversie però non si può non credere che questo tipo di esempio sia ininfluente e dall'altra parte ha il ricordo senz'altro di questo grande abbraccio che nel 1954 Khrushchev 300 anni da Periaslav vuole ripagare diciamo con la Crimea hai l'idea che fai parte dell'impero russo dal 1600 per tutta una zona dell'Ucraina però sai anche che l'impero zarista non c'è più sai anche che l'unione sovietica non c'è più che sei indipendente dal 1991 e che non è scritto da nessuna parte che tu voglia costituire il tuo stato intorno alla figura dell'autocrate padrone che si autoperpetua di elezione in elezione di mandato in mandato che è l'esempio di Lukashenko che è l'esempio di Putin che è l'esempio di una serie di presidenti delle repubbliche dell'Asia centrale l'Ucraina dice no e l'Ucraina ha conosciuto con tutti gli alti e bassi le imperfezioni i problemi di corruzione e altro ha conosciuto un processo ininterrotto di democratizzazione in questi trent'anni è chiaro non si può paragonare la democrazia ucraina a quella italiana ma loro mica sono da 46 dotati di una costituzione come la nostra e non godono delle nostre libertà ed è anche della possibilità di parlare spregiudicatamente del loro passato in bene o in male come facciamo noi è un vaso una pentola che è rimasta compressa che poi nel 91 ha recuperato questa sovranità ha incominciato a mettere insieme i pezzi sparsi di una identità di una sovranità e guarda caso invece che guardare verso Mosca e l'Asia centrale ha detto io mi sento Europa la mia intellettualità si sente Europa a me piace l'Europa e l'Europa gli ha detto se è troppo inadeguato per poter entrare nell'Unione Europea sta e lì aspetta ecco sta e lì e aspetta non è successo questo nonostante che l'Ucraina abbia fatto vedere come per una grande parte era stanca di questa situazione nel 2004 con la rivoluzione arancione nel 2013 con l'Euro Maidan e a quel punto lì la Russia ha detto ma se l'Ucraina veramente entra in Europa se veramente va a far parte del mondo che tipo di attrazione possiamo avere noi anche nei confronti di tutte le altre repubbliche e lì è nato anche il mito di un occidente rapinatore l'Uccidente rapinatore siamo noi è l'Unione Europea che ha tutti questi programmi di integrazione è programmi di integrazione in cui certe repubbliche partecipano e certe altre no e allora cosa dobbiamo dire sarà un problema anche per la Georgia e la Moldavia che vogliono intraprendere lo stesso processo quindi quello che sta succedendo è molto cruciale però 2012 Zaporizia un nome che in questi giorni risuona 2012 una serie di persone fino a formare migliaia migliaia di persone partono da tutta l'Ucraina per andare in Zaporizia e trovarsi per commemorare l'epopea Kosak l'intelligence russa quando ha detto a Putin vai là ti liberi di quel governo farlocco aveva cognizione del fatto che dietro c'era un popolo e che questo popolo forse aveva maturato una sua visione della storia di sé e del proprio futuro diversa ecco questo io ho cercato di spiegare partendo dal Kurgan per arrivare al 24 febbraio 2022 grazie grazie